Velocità, smartphone e alcol. Se nel 2018 gli incidenti in provincia di Padova sono aumentati del 10,73% rispetto all'anno prima, lo si deve a questi tre fattori. Risultato, 12 vittime e 490 feriti. La polizia stradale contro la pazza velocità mette in campo autovelox e tutor che hanno ridotto di oltre il 90% il tasso di incidenti. Resta letale l'uso compulsivo dello smartphone. L'emergenza odierna è sicuramente la distrazione alla guida e non possiamo non pensare e non citare all'uso dei cellulari. È davvero diventato dilagante come fenomeno ma è preoccupante perché è la causa di almeno il 6% degli incidenti stradali. In un anno 3.000 le persone controllate con l'alcol test, 566 denunciati per guida in stato di ebrezza e 38 per l'uso di stupefacenti. La fascia d'età più multata è quella sopra i 32 anni. Sempre preoccupante la quantità di mezzi che viaggiano senza assicurazione. Condurre un veicolo senza assicurazione può creare dei danni sociali rilevantissimi, per cui c'è stato anche un inaspiramento sanzionatorio e noi siamo ben concentrati sul controllo di questo fenomeno. Massima attenzione anche agli autobus per il trasporto scolastico e turistico. 111 pullman controllati, 13 le irregolarità rilevate, una carta di circolazione ritirata, autobus fermato e comitiva di pellegrini rientrata con un altro pullman ma soprattutto con un altro autista. Abbiamo riscontrato una percentuale di circa il 20% di veicoli che non erano idonei o per inefficienza dei dispositivi o per problemi del conducente. Grazie a tutti.